mister come si affrontano gare come quelle di domani dove quello che conta è solo risultato e siamo a fine stagione bello bello dai si affronta in maniera positiva maniera bella abbiamo passato una settimana tranquilla abbiamo lavorato bene e domani sappiamo che ci giochiamo tutto e quindi dobbiamo essere preparati. Cosa teme di più di questo Pineto a riduce da sette risultati utili consecutivi? Sappiamo che è un'ottima squadra l'abbiamo studiata abbiamo visto come giocano giocano molto bene hanno giocatori molto tecnici in mezzo al campo dobbiamo essere bravi a non farli giocare e noi dobbiamo essere bravi a giocare noi a fare i movimenti che abbiamo provato in settimana per cercare di metterli in difficoltà. Samba che non vince fuori casa da più di tre mesi un motivo in più per gettare il cuore oltre l'ostacolo? Sì sì ormai non ci si guarda più a queste cose non vince più fuori casa ma domani è una partita già da playoff perché noi domani per andarci dobbiamo vincere quindi già una partita dentro fuori dobbiamo affrontare senza paura con convinzione verranno tanti tifosi ad incoraggiarci e dobbiamo prendere il loro sostegno e portarlo noi in mezzo al campo. Condizioni di Thomas e Lulli? Thomas dovrebbe aver recuperato per Lulli ci riserviamo fino all'ultimo momento perché è importante anche la notte e la giornata di domani vediamo un attimino lo ringraziamo sia lui che Marco Minucci per tutto quello che stanno facendo per cercare di recuperare per questa partita e ci tengono molto ci tene molto Luca e quindi vediamo domani quello che succede. Dall'infermeria alto da segnalare? No no basta già quello che ci abbiamo va bene così.